Qual è la possibilità di parlare di questi temi? Qual è la possibilità di parlare di questi temi? Alla quale non vengono associati, non sono ancora stati associati, dei veri diritti, per cui se ci fossero dei veri diritti concreti associati al registro dell'Unione Civile, anche questo registro avrebbe molto più successo. E soprattutto è una mancanza di riconoscimento di diritti che provoca dolore e sofferenza nelle persone e questo mi stupisce che sia uscito fuori molto poco in questo dibattito, solo qualcuno l'ha menzionato, ma qui non stiamo parlando di grandi principi filosofici, di visioni generali del mondo, ma stiamo parlando di vite concrete di persone a cui questa situazione provoca difficoltà concrete e provoca anche una sofferenza e un dolore spesso molto significativi. E dato che le vie per la felicità sono molto diverse a seconda delle persone, io credo che lo Stato abbia il dovere di permettere a ogni persona di vivere liberamente nel modo che preferisce e di non frapporre ostacoli alla sua piena realizzazione. E credo che questa sia la parte della Costituzione che forse dovremmo tenere a mente nel momento in cui votiamo queste emozioni. Grazie a tutti.